Amiche e amici di argomenti, ci troviamo a visionare la mostra dei quadri della pittrice frascatana Maria Marra, dal titolo Alter Ego. Insieme alla pittrice Maria Marra collabora sua figlia Federica Napoli e mi piace leggere questa frase, svanisce il mio riflesso e lo spazio perde il senso. Pittura, fantasia, creatività, è come una poesia dove attraverso un disegno si esprime un pensiero, un senso profondo. La pittura racchiude anche il pathos, il logos, l'ethos. E possiamo vedere le immagini veramente belle, disegni proprio affascinanti che portano ad un pensiero, ad una profondità interiore. Maria Marra, la pittrice, in questo lavoro dedica veramente tutta se stessa. lavora con il cuore, con la passione, l'umiltà. Ed attraverso queste immagini, a questi disegni si trova proprio una pittrice che racchiude veramente nel disegno tutta la sua capacità. proseguiamo con gli altri quadri. Un orgoglio per la città di Fraschiati avere una pittrice così brava. alter ego, una bellissima mostra. Un saluto da argomenti, la voce dei cittadini. grazie.